Una macchina organizzativa di solidarietà e di soccorso pubblico che ha svolto un lavoro fondamentale. Il COC di Teramo chiude al termine di questa emergenza sanitaria con numeri che rendono orgogliosi l'amministrazione comunale. L'attività del centro operativo Teramano è durata quasi tre mesi nella sede del Parco della Scienza e ha garantito una presenza quotidiana. Nei fatti ha attuato l'obiettivo che il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, si era posto sin dall'inizio. Nessuno resterà solo. La macchina del COC è stata guidata dal vice sindaco Giovanni Cavallari, coadiuvato dal consigliere comunale Verardo De Carolis. Braccio operativo le tante associazioni di volontariato che hanno operato in sintonia. La Croce Rossa, Croce Bianca, Gran Sasso Teramo e Gruppo Cives di Protezione Civile, le Gadi Guardie Ambientali d'Italia, l'Associazione Nazionale di Polizia di Stato, il Gruppo Alpini e l'Associazione Nazionale Carabinieri. I volontari impegnati sono stati 85 per 8.178 ore di lavoro negli 80 giorni trascorsi non solo al Parco della Scienza ma su tutto il territorio comunale per dare esito alle 3.439 richieste telefoniche. Sono stati così percorsi 24.695 chilometri per la consegna di viveri, di farmaci, di mascherine, per la spesa, per distribuire materiale didattico, giochi ma anche sostegno psicologico. I volontari hanno contribuito inoltre all'allestimento delle scuole e al montaggio delle tende di triage all'ospedale Mazzini. Tra i servizi svolti ritiro di moduli ATER compilati, vigilanza presso gli uffici postali, consegna di effetti personali ai cittadini ricoverati, accompagnamento di anziani per il ritiro della pensione, pagamento delle utenze, dog sitter e compagnia al telefono. Inoltre hanno sottolineato il sindaco D'Alberto e il vice sindaco Cavallari grazie al contributo dei vigili del fuoco, dell'ASL, dell'ordine dei farmacisti e dell'Unifarma. I volontari sono stati vicini ai malati di SLA e a chi aveva bisogno di analisi cliniche urgenti. Sono stati tre mesi intensi di super lavoro per il COC che si è tradotto in sostegno reale, vicinanza e supporto psicologico ai cittadini terramani.